Mauro Milanese, DS del Varese, contento del rendimento della sua squadra? Sì, siamo contenti anche se sappiamo che le tre davanti corrono forte e senza essere né scaramantici né positivi né ottimisti sappiamo che se il Verona con 43 punti tenesse questo cammino anche al ritorno ne farebbe 86 quindi sarebbe difficile raggiungere i play-off anche paradossalmente arrivando quarti però insomma cerchiamo di fare il massimo per tenere aperto il campionato per noi e anche per le altre Il Varese comunque se la giocherà fino alla fine? Sì, cerchiamo di giocarci fino alla fine questi ultimi due anni per fortuna siamo riusciti ad andare in zona play-off e speriamo di farlo anche quest'anno anche se davanti camminiamo forte Per il mercato in questi ultimi giorni state progettando quali colpi? No, noi dobbiamo fare qualcosa di qualità insomma un po' gli acquisti di quest'estate sono andati bene quindi per migliorare l'undici e migliorare la formazione dovremo portare e completare con qualcosa da squadro a portare uno o due elementi di qualità per essere ancora più forti però sappiamo che per la nostra nicchia di stipendi e mercato dobbiamo aspettare l'ultimo momento per poi intervenire e cercare qualcosa che oggi non ci potremo permettere Tra gli altri vostri giocatori si è parlato molto di Martinetti in seguito da vari club, rimarrà Varese? Penso che Martinetti sta bene con noi, ha fatto gol, il mister lo vede bene poi il mercato è talmente vario che è una decisione che dobbiamo prendere insieme con giocatori e società però penso che la fine rimarrà da noi Invece da ex interista che cosa pensi del mercato dei nerazzurri e del campionato della squadra dei Stramaccioni? Ha fatto due tipi di campionati, molto molto bene fino alla Juventus e poi ha avuto un calo invece di avere quell'entusiasmo per staccare veramente il volo e cercare di competere con la Juventus un po' in corsa in brutti risultati adesso mi sembra che sia una fase di assestamento però sarebbe bello che il campionato sia vivo fino alla fine anche perché vedere non solo la squadra che vince sempre poi annoia un po' tutti quanti Restando sulla Serie A tra Drogba, Balotelli, Lisandro Lopez, Anel K quale colpo ti aspetti che verrà messa a segno? Io penso Drogba non avendo grossi costi di cartellino e forse era una cosa da fare questa estate quando è andato in scadenza con il Chelsea per gli altri giocatori penso che l'operazione è veramente importante e non penso che nessuna squadra se lo può permettere se non magari mettendola in qualche maniera veramente intelligente per non spendere tutti quei soldi di cartellino che oggi sono richiesti per questi grandi giocatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti